Torna la giovane Pepa nel segreto, o meglio la sua vera figlia che la ricorda tantissimo ma per ora sarà per tutti Carmen Garcia e cercherà lavoro alla locanda di Emilia. Lo ha giurato a Jacinta, vuole riprendersi la sua identità e lo farà a tutti i costi. La falsa Aurora è avvisata e la sua copertuta sta per saltare. Jacinta inizia ad avere paura e dovrà escogitare qualcosa per impedire che la vera Aurora entri in contatto con Gonzalo e suo padre, Emilia rivedrà in lei la sua amica Pepa, e lo scontro tra Raimundo e Francisca. La donna, infatti sposerà, Leon questo fa preoccupare Raimundo che avede in lei qualcosa di più di quello che pensa Leon. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.